Buonasera, bentrovati, vediamo insieme i titoli di oggi. Sequestrato l'hotel Mutacita di Miramare gestito dalla Camorra, i sigilli posti nell'ambito dell'operazione Mirror dei Carabinieri. Si è parlato di pista ciclabile oggi in terza commissione. Il progetto ridimensionato rispetto a quello iniziale mette in discussione i fondi regionali, nella migliore dell'ipotesi 120.000 euro. Scissione PDL, epizzolante sulla nuova Forza Italia, non hanno capito che se cade il governo Berlusconi non è candidabile. PD anche in provincia di Rimini prevale Renzi. Rifiuti da fuori regione a Raibano, il presidente Vitali scrive al ministro all'ambiente Orlando per chiedere un incontro. Contro l'ipotesi anche il sindaco di Misano, rappresentante riminese Inater Sir. Ben ritrovati in studio, dunque finito sotto sequestro questa mattina l'hotel Mutacita di Miramare. I sigilli sono un proseguimento dell'operazione Mirror dei Carabinieri che aveva permesso di scoprire legami della malavita organizzata con il tessuto economico e turistico riminese. L'albergo era finito sotto la gestione della camorra tramite la testa di legno Alfredo Forte. In carcere sono finiti Massimiliano Romaniello e Giuseppe Ripoli. E mo' che faccia ci mettiamo? E la faccia era quella di Alfredo Forte, prestanome di Massimiliano Romaniello e Giuseppe Ripoli, nella gestione dell'hotel Mutacita di Miramare. Le intercettazioni telefoniche chiariscono bene il ruolo di Forte, 53enne casertano, nella vicenda che ha portato al sequestro dell'albergo di Via Lugano. A Romaniello e Ripoli, entrambi pregiudicati, serviva un nome pulito per acquisire la struttura in cambio dell'estinzione di un debito di 20.000 euro del precedente gestore. L'hotel Mutacita viene acquisito il 18 aprile, il 29 dello stesso mese. Romaniello, napoletano di 39 anni e Ripoli, 35enne della provincia di Matera, vengono arrestati per conto della procura di Rimini e successivamente, il 15 maggio, su indicazione della procura antimafia di Bologna, nell'ambito dell'indagine Mirror. Per Forte, chiamato dai due il pizzaiolo, l'accusa è di intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato un'associazione di stampo mafioso. Completamente estranei fatti invece la proprietà dell'immobile, che si era relazionata solo con Forte per la stipula del contratto di affitto per la stagione estiva 2013. Romaniello e Ripoli erano convinti di poter realizzare dalla gestione dell'attività alberghiera un utile lordo di 250.000 euro per ridursi, sempre a loro parere, in un netto di 120.000 euro. Questi soggetti che nell'indagine Mirror emergevano quali elementi di spicco nell'attività criminale di stampo mafioso, perché questo è il titolo di leato che è stato rubricato ai soggetti, che erano in continuo movimento sulla riviera romagnola per cercare di inglobare attività commerciali o appunto nella fattispecie un'attività ricettizia per i loro affari che appunto volevano condurre qua sulla riviera. Si è parlato della nuova ciclabile sul lungomare di Rimini questa mattina in terza commissione consigliare dove sono state discusse le mozioni dei consiglieri Camporesi, Renzi e Moretti. Da una parte l'amministrazione conferma la bontà del progetto, dall'altra l'opposizione ne sottolinea le criticità e intanto la partita dei costi è in continua evoluzione. Vediamo. Il comune di Rimini aveva partecipato a un bando regionale per la mobilità sostenibile con un progetto per il tratto piazzale Boscovici-Kennedy, un progetto che prevedeva l'allargamento del marciapiede per farci stare tutte e due le corsie della ciclabile. La regione lo ha accolto assegnando il 60% del costo, ovvero 450.000 euro su 750.000. Poi come noto la ciclabile è stata realizzata con una corsia sul marciapiede e una sulla sede stradale. Il costo per l'intero tratto Rimini-Riccione a oggi è stato di 666.000 euro, di cui 221.000 per misure aggiuntive. Per meglio marcare il confine tra ciclabile e carreggiata. Se la prima graduatoria è stata fatta in base agli studi di fattibilità, l'erogazione dei contributi avverrà dopo la presentazione dei progetti esecutivi. La scadenza è il 29 novembre, ma a questo punto dalla regione, se il progetto di Rimini rivisto e corretto sarà comunque accettato, arriverà il 60% del costo coperto per il tratto Boscovici-Kennedy, 120.000 euro su 200.000. Una scelta, quella di cambiare del progetto, dettata dalla volontà di intervenire subito sull'intero asse e non su un solo tratto, spiega l'assessoressa De Golvad, che ricorda anche come gli introiti dei parcheggi, un milione e mezzo da maggio a settembre, siano rimasti stabili, anche con 200 posti in meno, a conferma di un'offerta comunque adeguata. Il 5 Stelle ha chiesto se una ciclabile col cordolo potrebbe essere più spendibile in tema di finanziamenti europei, ma la questione è da dirimere. La Moretti del PDL ha portato delle foto della ciclabile sul lungo Arno a Firenze, una ciclabile riservata bidirezionale della stessa dimensione di quella di Rimini, due metri e mezzo, e dotata di cordolo. Ma quella di Firenze è improponibile, hanno risposto i tecnici, perché non rispetta la normativa, senza convincere la Moretti, visto che tra l'altro una pista simile è stata realizzata a Viserbella. Intanto si parla di un calo degli incidenti sul tratto della ciclabile, anche se non sono state diffuse statistiche specifiche. E le emozioni dei tre consiglieri, i camporesi Renzi e Moretti, che si sono dichiarati insoddisfatti, saranno discusse in una prossima seduta del Consiglio Comunale di Rimini. Consiglio che questa settimana si riunirà due volte, sempre alle 18, mercoledì per la cittadinanza onoraria al professor Canevaro. È giovedì per parlare del piano di protezione civile comunale e le sedute saranno trasmesse in diretta, ovviamente, su Icaro TV. Tempo di grandi manovre per la politica nazionale. Da una parte la scissione del centro-destra con la nascita di due nuovi partiti. Dall'altra il PD, che si prepara al congresso dell'8 dicembre e che dovrà scegliere il nome del nuovo segretario. In mezzo c'è uno governo di larga intese chiamato a traghettare il paese tra le pressioni europee e quelle interne. Vediamo. Il centro-destra italiano ha vissuto nel fine settimana uno dei suoi momenti più difficili, la scissione. Da un lato la nascita della nuova Forza Italia di Berlusconi e dei cosiddetti falchi che legano la decadenza del loro leader al futuro del governo Letta. E dall'altro Alfano e gli attuali ministri che hanno varato il nuovo centro-destra che può contare su una trentina di senatori e altrettanti deputati, deciso a sostenere il governo Letta. Con Alfano anche Sergio Pizzolante, da sempre critico con le posizioni dei fautori della nuova Forza Italia, definite estreme. Insieme a lui a livello locale, il sindaco di Montefiore Valdi Cipriani e molti consiglieri comunali del territorio che ieri si sono incontrati a Riccione per fare il punto. Pro Berlusconi invece il consigliere regionale Lombardi e il coordinatore del partito Miserocchi. La vita breve di questo debole governo non vale il prezzo della divisione, aveva commentato quest'ultimo su Facebook. La crisi di governo porta o ad un governo di sinistra-sinistra con CEL, PD e un pezzo di 5 stelle, oppure se nel caso in cui si dovesse andare a votare, porta a febbraio o a marzo le elezioni con Renzi in campo per la sinistra e con nessuno in campo nel centro-destra, perché Berlusconi non è candidabile. Questo è il punto, Berlusconi non è candidabile. Nella testa di molti questa cosa non è ancora entrata. In vista delle amministrative Pizzolante auspica però un dialogo sereno e la possibilità di correre in coalizione. Il partito democratico invece procede verso le primarie per il nuovo segretario nazionale. I circoli provinciali hanno sancito il predominio di Renzi, 44,3% su Cuperlo, 37,5%, con Civati terzo incomodo. In totale 1451 i voti. Questo è un'ulteriore dimostrazione di come il partito democratico sia un partito che nonostante i limiti e i difetti cerca sempre la partecipazione dei propri iscritti, dei militanti, dei propri elettori. Noi non siamo il partito che nasce da un predellino e che viene chiuso da un comunicato stampa. C'è franchezza in questo dibattito, onestà intellettuale nelle posizioni che si cerca di difendere, di rappresentare, perché credo che la politica si debba fare così. Dopo aver assistito negli ultimi giorni allo scontro a distanza tra Mussoni di Oasi e l'assessore Biagini, la FIBA confie esercenti di Rimini che con un proprio parere tecnico-legale ha riportato alla ribalta la questione delle autorizzazioni paesaggistiche in spiaggia, ne ha per entrambi. A Mussoni, che rivendica di avere già sollevato in passato la tesi della non sussistenza dei vincoli, la FIBA ricorda che si sono portate avanti chiacchiere e suggestioni, ma senza un vero approfondimento delle norme, come quello invece commissionato dalla FIBA ad un legale. E a Biagini che si chiede perché solo oggi si reputi non obbligatoria l'autorizzazione paesaggistica che a Rimini viene richiesta da 28 anni. La FIBA risponde che fino alla fine degli anni 90 il comune di Rimini non l'aveva mai richiesta e solo dopo, per motivi ignoti, è diventata obbligatoria. La FIBA ricorda inoltre i tempi lunghi per il reperimento della documentazione tecnica e normativa in possesso dell'amministrazione e che la stessa doveva e aveva più facilità di verificare. Il presidente della provincia di Rimini, Stefano Vitali, ha mandato una lettera urgente al ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, sulla vicenda dell'impianto di incenerimento di Raibano chiedendo un incontro per cercare di evitare l'arrivo dei rifiuti da fuori provincia. Non si può lasciare una questione così delicata al libero mercato, ha detto Vitali, spiega nella lettera, ricordando come il piano provinciale dei rifiuti limiti l'incenerimento al solo materiale prodotto dal territorio provinciale. L'interessamento del ministro era stato sollecitato anche da altri amministratori come il sindaco di Coriano Spinelli e il sindaco di Misano Giannini, che è anche il rappresentante dei comuni riminesi nell'Atersir, che nei giorni scorsi ha manifestato il proprio disappunto ai vertici di Era Ambiente. La richiesta, spiega Giannini, non è giustificata da esigenze tecniche perché i vertici di Era hanno riconosciuto che il rifiuto solido urbano prodotto in provincia, insieme a quelli speciali non pericolosi che già accedono all'impianto, sono sufficienti ad alimentare l'inceneritore anche nell'ipotesi di ulteriore crescita della raccolta differenziata. Quindi, conclude il primo cittadino di Misano, la richiesta avrebbe motivazioni solamente di carattere economico, insufficienti a superare gli indirizzi del piano rifiuti vigente. È stata Paola Bignardi, già presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, la relatrice della Prolusione del nuovo anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Con lei, anche il Vescovo Lambiasi e il direttore dell'Istituto, Natalino Valentini. 200 iscritti alla laurea magistrale, 60 le specialistiche, con una netta maggioranza nella pedagogico-didattica. Anche quelli di quest'anno sono numeri importanti per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. A darli, il direttore Valentini, in occasione della Prolusione all'anno accademico. Un incontro di approfondimento e formazione per studenti e docenti che ha visto come protagonista Paola Bignardi. Per ogni cristiano, ha detto, è importante aprirsi al mondo che oggi rappresenta il luogo primario dell'incontro con il mistero. Non è facile per cristiani che sono cresciuti in un clima in cui sostanzialmente hanno imparato di fidare del mondo, avere l'apertura cordiale nei confronti di tutti. Alla fine si rischia rischia di pensare che valga solo quello che accade nel perimetro della propria esperienza ecclesiale. Ma il Signore ci ha insegnato ad essere universali ed è tanto bello perché dà una grande apertura, grandi orizzonti alla vita e quindi vale la pena vivere così. Fondamentale è la formazione che deve essere un percorso continuo nella vita del credente. La formazione è la cura che si ha di se stessi come persone che cercano il Signore e questo è un compito che dura tutta la vita. Per questo la formazione non è a segmenti, non è a fasi della vita. Non è che quando uno ha vent'anni dice, ah beh, sono formato, hai fatto, no? Dura tutta la vita. Diciamo che per i pigri non va bene perché dice, ah, ma quando è che mi siedo? Invece per le persone che sono curiose di sapere quello che c'è sempre un po' al di là. Questo è bellissimo. E ieri si è svolta la festa per i vent'anni della missione diocesana in Albania. La missione riminese era nata sull'onda dell'emergenza umanitaria e religiosa di quel paese nel 1993, ma pian piano si è sempre più affermata come una vera e propria opera di edificazione della Chiesa, oltre che di promozione umana e sociale. In occasione dei festeggiamenti c'è stata una celebrazione eucaristica in Basilica Cattedrale presieduta dal Vescovo di Rimini e preceduta da una tavola rotonda in sala Manzoni, stiamo vedendo nelle immagini, con Don Renzo Gradara che ha gettato il primo seme della missione, Don Giuseppe e Don Giovanni Baccarini che l'hanno gestita per molti anni, Don Giuseppe Tosi attualmente impegnato nella missione insieme a cinque consacrate a un consacrato della piccola famiglia dell'Assunta di Montetauro e Monsignor Francesco Lambiasi. Il Vescovo si è recato in visita alla missione dal 9 al 13 novembre proprio in occasione dell'anniversario del ventennale. Siamo alle notizie dei centosecondi. I parlamentari riminesi del PD, Petitti e Arlotti, insieme ai colleghi romagnoli hanno inviato una lettera a tutti i sindaci dei comuni della Romagna e per conoscenza i presidenti delle province di Rimini, Forlice, Sena e Ravenna, in cui spiegano i contenuti del disegno di leggi di riforma istituzionale presentato dal ministro per gli affari regionali Graziano del Rio per il superamento delle province. Nella lettera invitano i sindaci a valutare l'opportunità di mettere al voto una delibera con la quale i consigli comunali diano avvio al processo di fusione delle attuali tre province romagnole. È stata approvata questa mattina all'unanimità dalle quattro conferenze sociali e sanitarie territoriali della Romagna la dichiarazione di principi ed intenti per la costituzione dell'AUS l'unica della Romagna. L'incontro si è svolto alla sala del Consiglio della provincia di Rimini, dove è stato poi sottoscritto il protocollo tra le stesse conferenze sociosanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e le associazioni sindacali per la costituzione dell'AUS l'unica. Ieri i carabinieri di Cattolica e Saludecio hanno arrestato per spaccio un 51enne riminese, un 44enne di Cerignola e un trentenne di Cesena, tutti pregiudicati. In casa avevano dosi già pronte per lo spaccio di hashish e marijuana per un totale di 60 grammi e 2000 euro in contanti. Il Cesenate prendeva ordinativi tramite internet per poi spedire la droga agli indirizzi degli interessati tramite posta prioritaria. Potrebbe essere la pesca a strascico, secondo la struttura oceanografica Daphne, la causa accidentale dell'anomala moria di tartarughe registrata nelle ultime settimane in alto adriatico. Oltre 600 persone al Palaterme di Riccione per festeggiare il compleanno di Jenny. La ragazza 16enne è scomparsa 5 anni fa per una grave forma di leucemia. Sono stati raccolti i 1800 euro che andranno in beneficenza a tre associazioni. C'eravamo anche noi, vediamo. Un autentico inno alla vita. È stato soprattutto questo la serata Il Sorriso di Jenny, giunta alla quinta edizione, in ricordo della ragazza riccionese scomparsa a soli 16 anni per una leucemia. Una serata con la musica in primo piano, con il mezzo soprano Norino Angelini, il sassofonista Mario Marzi, il coro Notting Crescendo, quello di cui faceva parte Jenny, diretto dal maestro Fabio Pecci. Apertura affidata alla presentazione del libro Non chiederti mai dove sono. Scritto dalla mamma, Roberta, capace con freschezza ed immediatezza di raccontare l'entusiasmo, la voglia di vivere, l'altruismo e la forza di una ragazza capace di lasciare un seme che oggi sembra germogliare. L'introduzione del libro è stata affidata allo psichiatra Alessandro Meluzzi, presente al Palaterme di Riccione. Allora a me è parso che Roberta avesse dentro di sé un tesoro di dialogo con questa ragazza, una ragazza speciale, tutti i giovani sono speciali, ma questa ragazza lo era per davvero, perché aveva un pathos ed una dimensione di intensità della vita, della relazione con gli altri, dell'amore con gli altri, del dono, qualche cosa di pirotecnico, qualche cosa che aveva il sapore dell'aria, del vento, del fuoco, della terra, un'energia vulcanica. Durante la serata premiati i vincitori del concorso letterario, una pagina del mio diario, rivolto agli studenti degli istituti superiori della provincia di Rimini, 478 gli studenti che hanno partecipato quest'anno al concorso, incentrato sul tema della felicità, a vincere Arianna Migani del liceo classico Valgimigli di Rimini. E tutta la serata, in ricordo di Jenny, andrà in onda mercoledì alle 21 su Icaro TV. Adesso siamo allo sport, il calcio. L'inattesa sconfitta di sabato con il Castiglione non è stata ben digerita in casa Rimini. Da ieri sera staff tecnico e giocatori sono entrati in silenzio stampa. Torneranno a parlare solo domenica prossima per commentare la partita interna con il Delta Porto Tolle. Gli allenamenti al centro sportivo La Gaiofana saranno svolti a porte chiuse. Della dodicesima giornata di seconda divisione si parlerà questa sera dalle 21.05 su Icaro Sport e su Radio Icaro nel consueto appuntamento del lunedì con Calcio.Basket. Ospiti in studio il vicepresidente del Rimini Marco Amati e il difensore del Bellaria Kadir Kaidi. Dalle 20 alle 21 invece l'appuntamento è con Overtime del lunedì. Ospiti in studio il presidente del Misano Andrea Signorini, il responsabile comunicazione della marignanese Rodolfo Rossi, l'esterno del Ravenna Alessio Ambrogetti e il centrocampista del Cattolica Gabriele Ricci. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo dalla redazione. Buona serata. Grazie a tutti.